Martedì 13 luglio in Puglia sono stati registrati 7.527 test per l'infezione da Covid-19 e sono stati registrati 97 casi positivi. 30 in provincia di Bari, 6 in provincia di Brindisi, 1 nella provincia Bat, 8 in provincia di Foggia, 39 in provincia di Lecce, 11 in provincia di Taranto, 2 casi di residenti fuori regione. E' stato registrato un decesso in provincia di Lecce. 1712 sono i casi attualmente positivi di Covid-19 in Puglia.